Bene cari amiche e cari amici siamo arrivati al terzo match qua a Savignano sul rubicone Salaroli Johnny della box Sant'Arcangelo, canotta rossa contro Stoico Howard, canotta blu della Alex Boxing, più alto più alto Johnny Salaroli, siamo alla categoria 80 kg e più, arbitraria il referee Thomas Arpula, i pugni fanno male benissimo, è entrato Stoico, Stoico che vediamo che è un mancino, adesso bene, bene Johnny Salaroli, 1-2 di Johnny, lo porta anche con un montante, con un montante Johnny Salaroli, 15 anni per Johnny Salaroli e 14 per Stoico Howard Poi dopo nel secondo tempo vi leggo un pochettino lo score dei ragazzi abbiamo visto all'angolo di Salaroli il coach è Cristiano, Siluro, Schiappellini, fuori misura Howard sezione la testa, il referee lo ritarduisce, attacca, attacca colpo di Howard e finisce il primo time questo terzo match qua a Savignano sul rubicone, in attesa del main event, l'incontro fra Jesse Elena contro il time, è uscito il paradenti a Salaroli, a Salaroli Johnny è uscito il paradenti, l'arbitro, il referee lo accompagna all'angolo, farà la mimica che è la prima volta che ha perso il paradenti, vi ricordo che dopo la prima volta e dopo il terzo volta che perde il paradenti verrà fatto un richiamo ufficiale, adesso è partito bene quel destro Salaroli andiamo Howard, è lì che lo inquadra colpo di un destro di Salaroli che era andato a finire sulla spalla Howard, di Howard che era finito sulla spalla, colpi larghi, bene quel gancio di Howard chiede di anticipare, chiede di anticipare il suo coach, fuori misura, bene Howard, colpi di sbarramento adesso ancora Salaroli, chiede di avvicinare, di accorciare la distanza, il suo coach Cristiano Scarpellini lo porta alle corde Howard, colpi larghi, colpi larghi di stoico Howard, aspettiamo alla ripartenza di Johnny Salaroli, non agganciarlo, bene, poi è bello lo scambio e finisce alla terza e ultima ripresa fra Salaroli e Johnny contro stoico Howard, 15 anni per Johnny e 14 per Howard siamo in una categoria 80 kg benissimo, benissimo quel sinistro di Howard ancora bene quel gancio di Howard ancora uno due, bello scambio, bello scambio sono qua all'angolo, trattiene, trattiene l'angolo blu, canota blu stop, attenzione il referee, Thomas Arpula, lo invita a una box pulita uno due di Howard, prova il montante, prova il montante, Salaroli Johnny, che lì che adesso benissimo quel sinistro di Howard, lo incalza l'angolo Salaroli Salaroli ancora bene, bene colpi precisi di Howard, fuori misura Salaroli siamo arrivati quasi ai dieci secondi finali, uno due, le forze cominciano a mancare bene Venezioni Salaroli che lo porta lì all'angolo, ancora quella a sinistro, piede perno viene via i dieci secondi finali, vediamo e finisce, finisce il match finisce il match match pari tra Salaroli Johnny e Stoico Howard e così finisce il match campioni d'Italia 1979 1280 il primo